Voga 2015, giorno 10. L'argomento di oggi è come ti prepari a cominciare la settimana. Ottimo inizio di settimana, oggi è il mio primo giorno di ferie, quindi in realtà molto più lentamente del solito. Comunque, scherzi a parte, generalmente io al fine settimana riesco a ricaricare le batterie, un qualche riposo, un pochino di relax, e quindi il lunedì comincio la settimana normalmente con molta calma. Generalmente il martedì è il giorno in cui vado dal barbiere, ma in questo caso ci sono stato stamattina, perché normalmente il lunedì i barbieri sono chiusi, ma essendo il quindici sabato, quindi un giorno festivo a metà settimana , quando c'è un giorno festivo durante la settimana lavorativa, il barbiere spesso fa apertura straordinaria il lunedì, quindi sono stato lato sul barbiere stamattina alle sei, il mio barbiere è un campagnolo DOC, apre le sei del mattino, quindi barba e capelli, mi sono dato una bella ripulita, sono tranquillo, adesso così faccio... comincio le ferie, bello sbarbato, pulito e improvumato... sudato soprattutto, c'è un caldo! Son qua col ventilatore USB, santa invenzione il ventilatore USB cinese. Comunque, dicevo, fondamentalmente semplicemente è la carica che mi son dato nel fine settimana, quella che mi dà la spinta a cominciare la settimana lavorativa o a cominciare la settimana. Con relax, con calma, comincio la mattina all'alba, perché così mi faccio la doccia piano piano, poi mi vesto, vado a fare colazione al bar, leggo il giornale... non amo fare le cose di corsa. E voi, invece, come vi preparate a cominciare la settimana? Fatemi un po' sapere con un commento qua sotto, e come sempre ricordatevi di fare like, condividere questo vlog e di iscrivervi al canale. Io sono Grizzly, questo era il giorno 10 del Voga 2015, e anche San Lorenzo stanotte, quindi notte di stelle cadenti, anche se in realtà è una settimana di stelle cadenti. Tutti gli anni facevamo qualcosa fra l'8 e il 14 di agosto, adesso il tempo è poco, ma ogni tanto si va. Comunque non è solo stanotte che sono le stelle cadenti, o domani o dopodomani, è una buona settimana. Ad ogni modo, io sono Grizzly, noi ci vediamo domani col prossimo vlog. Ciao a tutti!